Beppe, 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 cosa stai facendo? Giuseppe dove vai? Cioè fatemi capire, io mi sono svegliato, è un incubo, tutto questo non è mai esistito, tutto questo è uno scherzo, c'è una telecamera nascosta da qualche parte in casa mia che afferma che questo si tratta di uno scherzo. Beppe Marotta non può lasciarla a Juventus, Beppe Marotta si è dimesso, la segna di dimissioni, lasciala a Juventus, non ne ho idea, chiamatela come vi pare, perché io ieri, lo sapete, se andate qui sopra nelle schede trovate il link del video che ho caricato ieri su Juventus-Napoli, appena finita la partita ero in matrimonio, ho guardato la mia partita, il post partita purtroppo non sono riuscito a vederlo, intanto il bottone dei 100.000 iscritti di YouTube è storto, non sono riuscito a vederlo, apro Facebook così per curiosità e mi trovo la notizia, la bomba lanciata, boom in faccia, Beppe Marotta non sarà più l'amministratore delegato da Juventus e allora pensavo di, non lo so, aver esagerato con gli amari al matrimonio, non pensavo che fosse possibile una cosa del genere, e invece è successo davvero, io sono andato a vedermela l'intervista di Marotta per capire esattamente, motivazioni adesso non ce ne sono, hanno detto lo diremo, vedremo, bla bla bla, un po' come era stato detto per Marchesio, Claudio tuttora non ha rilasciato dichiarazioni per far capire perché si è andata, anzi al veleno successivamente poi ha detto, io non ero mai stato infortunato, invenzioni, quindi non si sono lasciati benissimo e adesso se ne va anche Beppe, che per l'amor di Dio potrebbe essere rimpiazzato dallo stesso Paratici, dato che quest'anno Paratici ha fatto vedere di essere forse superiore a Marotta, l'avevamo già detto ai tempi dell'acquisto di Cristiano Ronaldo, è stata tutta una sua idea, è nata da lì, l'ha detto anche Nedved, l'ha detto Agnelli, che in Paratici un giorno si è svegliato e ha detto, oh ma io voglio provare a comprare Ronaldo, ci proviamo, e poi con Mendes per Cancelo si sono incastrati tutti i pezzettini, il fatto sta che se se ne va Marotta la Juve perde tantissimo, a livello di organigramma dovrebbe rimanere nell'ambito sportivo, adesso non so per quanto tempo a questa parte se è una buona uscita per rimanere in buoni rapporti, ma Marotta comunque non sarà più un dirigente a tutti gli effetti della Juventus e questo fa male, questo fa male qua perché Marotta ha sbagliato veramente pochi colpi in questi otti anni di Juve, mi viene in mente El Malacca-Martinez, mi vengono in mente Krasic, mi viene in mente Bender e Daniel Kha, però sono tutti giocatori che dovevano farcire un po' perché dall'altra parte mi vengono in mente Pirlo a zero, Pogba a zero, Llorente a zero, Vidala a 10 milioni, Tevez praticamente regalato, abbiamo visto di tutto, Higuain ha preso con la forza, con la clausola recessoria, Pjanic con la clausola, sono tutte operazioni che hanno creato questa Juve, di bala dal Palermo, ci hanno visto lungo, fa male, fa male perché perdi qualcuno di importantissimo livello sportivo e dirigenziale nella Juventus, fa malissimo, Marotta ha tra l'altro vinto pochi giorni fa il premio con il miglior dirigente del mondo, e noi lo perdiamo, Marotta ha smentito che sia in ottica FIGIC, dato che poteva essere eletto presidente della federazione italiana gioco calcio, non lo so, in questo momento non lo so chi mente, chi ha ragione, mi immagino che il suo erede sarà davvero Fabio Paratici, sarà davvero lui, e mi vado a collegare con una notizia, questa è una pure relazione, prendetela con le pinze, ragionamento logico che ho fatto io e solamente io, non so se magari qualcun altro l'ha detto sul web, ma questa è una cosa che mi è venuta in mente, ieri sera, mentre ero al matrimonio, infatti tutti i miei amici che mi dicevano cosa fa, perché Marotta si è dimesso? Io ho provato a ricostruire questa cosa, è una cosa, un mio ragionamento, quindi prendetelo davvero con le pinze, qualche mese fa si era sparsa, si era diffusa questa notizia proveniente sia dalla Francia che dalla Spagna, secondo la quale Zidane sarebbe potuto presto entrare in dirigenza nella Juventus. Allora un attimo ti fai due domande, Zidane, allenatore vincente, recente, del Real Madrid che ha vinto tre Champions League di file ai primi tre anni di allenatore, non potrebbe venire a fare il dirigente alla Juve, anche se Zidane potrebbe benissimo ricoprire questo ruolo, Zidane vorrebbe comunque allenare e poi a livello dirigenziale, vi è già Marotta e Paratici che erano forse il meglio sul mercato in questo momento, se ne va Marotta, Allegri non potrà rimanere per sempre sulla panchina della Juventus, Zidane è libero, abbiamo Cristiano Ronaldo, anche qua forse i pezzettini del puzzle potrebbero iniziare ad incastrarsi, perché potremmo vedere uno Zidane come braccio destro di Paratici che diventerà a tutti gli effetti il manager numero uno di riferimento della Juventus, con Zidane che per un anno o comunque un paio d'anni rimane al fianco di Paratici per sbrigare tutte le questioni burocratiche e a livello di mercato per diventare manager a 360 gradi, salvo poi prendere l'eredità di Massimiliano Allegri e diventare proprio un manager all'inglese, tutto tondo, un po' come Mourinho, un po' come Rassila Sir Alex Ferguson, una figura del genere. Ripeto, pure l'azione è totalmente mia, ma in un momento in cui perdo Giuseppe Marotta devo cercare di trovare delle certezze all'interno di me stesso con tutti i concetti logici che posso trovare fuori. Mi dispiace tantissimo, sono dispiaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete qualche informazione in più, io ho visto solamente l'intervista di Marotta, ho visto qualche ricostruzione, Sky, ho letto qualcosina, ma veramente, in questo momento le acque sono confuse, è un terremoto, un fulmine a ciel sereno nella Juventus che dopo aver vinto con il Napoli perde uno dei suoi uomini più importanti. Mi mancherai Beppone, ti voglio bene.